Approvato a larghissima maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana lo Statuto della Fondazione per la Formazione Politica Istituzionale Alessia Ballini, che si rivolge a consiglieri regionali, comunali, assessori e sindaci di età compresa tra i 18 e i 40 anni, per qualificare sempre più il loro impegno nelle istituzioni e la loro capacità di analisi e gestione dei problemi. Le attività di formazione saranno prioritariamente volte allo studio e conoscenza di materie legate all'attività politica amministrativa. All'attività di formazione della rappresentanza politica elettiva partecipano come soci fondatori l'Unione delle Provincie Italiane della Toscana e l'Associazione Regionale dei Comuni della Toscana. A comporre il Consiglio di amministrazione sette consiglieri nominati dal Consiglio regionale, di cui due indicati dalle associazioni degli enti locali, hanno diritto al rimborso spese per lo svolgimento della funzione ed è previsto un revisore unico, sempre di nomina del Consiglio regionale. Come socio fondatore promotore il Consiglio regionale partecipa con 50.000 euro al fondo di garanzia, mentre Upi e Anci con 5.000 ciascuno. Si aggiunge poi un contributo alle spese di funzionamento nel limite di 100.000 euro annue per il 2021 e 2022, limite che varrà anche per gli anni successivi. L'impegno per Upi e Anci è di 10.000 euro ciascuno. Le attività si svolgeranno sulla base di un programma annuale con proiezione pluriennale che dovrà essere trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Oggi è una bella giornata, abbiamo dato seguito alla legge che era stata approvata nella scorsa legislatura, abbiamo votato una delibera che istituisce l'atto costitutivo con cui andremo a fondare una scuola di formazione politica. Il nostro obiettivo dall'inizio di questa legislatura è quello di dare risposte ai ragazzi più giovani. Vogliamo dare con questa scuola gli strumenti ai giovani amministratori Anter 40 per svolgere meglio il loro compito, quello di dare risposte ai cittadini e alle cittadine della Toscana. Lo faremo insieme ad Anci, insieme ad Upi, cercheremo di mettere in piedi una scuola di formazione che oltre a fornire gli strumenti definisca anche le principali azioni valoriali che la nostra regione vuole portare avanti. Sarà pronta dall'estate di quest'anno, noi speriamo di fare i primi corsi subito dopo l'estate in maniera tale da poter coinvolgere già i primi studenti nel 2021. Ora, non appena sarà approvato, sarà sottoscritto lo statuto e l'atto costitutivo, torneremo in Consiglio regionale per eleggere il CDA della Fondazione che, sottolineo, svolgerà questo incarico senza alcun compenso. Innanzitutto ricordiamoci la storia. La scorsa consigliatura, dove anche all'epoca risultavo tra i consiglieri, vide uno degli ultimi atti, e devo ricordare anche con un atto votato proprio in fretta e furia, la istituzione della scuola. Quella fretta non ci piacque, proprio perché rappresentava una forzatura di finale consigliatura che ovviamente non poteva trovare il nostro consenso. Oggi si sta scrivendo anche e soprattutto per merito di un ufficio di presidenza che sta lavorando in coesione anche con il centrodestra, con i consiglieri del centrodestra che stanno dando un importante contributo. Ecco, si è scritta una pagina diversa. La scuola era istituita, ora si trattava comunque di far sì che vi potesse essere un buon funzionamento, perché quando le cose esistono di fatto, occorre cercare insieme di dare un buon funzionamento. Quello che chiedono i toscani è che le cose oggettivamente funzionino. Buonsenso, pragmatismo. Noi abbiamo dato veramente dei contributi importanti sotto questo punto di vista. Il direttore risulterà, tra le persone che fanno già parte, delle strutture dei soci fondatori di regione ANCI, UPI, e quindi non ci sarà un aggravio di costi ulteriori. E questo è un dato importante in un periodo come il nostro. Inoltre, si cercherà di fare una buona sinergia e collaborazione con la scuola di ANCI, perché questa riguarda tutta la Toscana e tutti gli eletti. Quindi anche la collaborazione con ANCI, con la collaborazione con UPI. Inoltre, posso dire che vi è proprio quella politica volta al contenimento dei costi, che a noi piace. Quindi una scuola di formazione che avrà sede in questo palazzo, presso il palazzo del Pegaso. Siamo soddisfatti per aver dato il nostro contributo. L'abbiamo fatto con responsabilità, con serietà, con maturità. Cerchiamo di far funzionare le cose bene in Toscana, cerchiamo di pensarci bene quando si istituiscono. Ma una volta istituite, come è il caso della scuola di formazione, facciamola funzionare almeno bene. Può essere un'iniziativa interessante, ma attualmente è fuori contesto, stante l'emergenza che stiamo vivendo. E non parlo solo per i 300 mila euro che dovrebbero essere devoluti per il finanziamento, ma parlo anche di come si vorrebbe impostare questa scuola di politica. La scuola politica la fa ciascun partito, noi come movimento, nelle formule che avvicinano il cittadino alle istituzioni, a un percorso di politica intesa in senso puro, genuino, avvicinarsi all'interesse di tutti, della collettività. Mi sembra un'iniziativa della Regione Toscana che non abbia un fondamento particolarmente forte. Sembra soltanto una delle tante iniziative della Regione Toscana, ma non ne trovo in questo momento né l'utilità e né soprattutto le fondamenta, le basi anche argomentative per crearla. È un'occasione per buttare via i soldi. Lo abbiamo detto in maniera molto chiara. Siamo l'unica forza politica, Forza Italia è l'unica forza politica, che ha votato no allo spreco di 300 mila euro in tre anni per formare chi? Chi dovrebbe essere già formato? Perché allora dovete chiedere a chi mandate nei consigli comunali, nei consigli di quartiere, nei consigli regionali in Parlamento, la sai fare politica? La sai riconoscere una differenza fra una mozione e un'interrogazione? Se vi risponde di sì, votatelo. Se vi risponde di no, non lo dovete votare. Perché è inaccettabile che dalle tasche di un dipendente, dalle tasche di un pensionato, vengano prelevati dei soldi e quei soldi servono per formare chi? I politici. Questo è il modo peggiore di fare politica. Forza Italia, in maniera fiera, è l'unica forza politica che ha votato in consiglio regionale contro questo spreco di danaro pubblico. Perché la formazione appartiene ai partiti e perché la formazione la si fa ascoltando i cittadini e facendo i percorsi. Io ho fatto il consigliere di quartiere, il consigliere comunale e ora il consigliere regionale. Questo è quello che dovrebbe fare la politica, non chiedere che i cittadini paghino le tasse per poi formare i politici. È inaccettabile. Il consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2019 e il bilancio di previsione 2021 dell'Agenzia regionale per l'impiego. Per quanto riguarda il bilancio di previsione, il valore della produzione ammonta a circa 60 milioni e 249 mila euro, di cui 4 milioni e mezzo sono contributi da parte della regione toscana per le spese di funzionamento, mentre la gran parte delle risorse proviene dal Governo nazionale e da finanziamenti europei. Per quanto riguarda invece il bilancio consuntivo di arti per il 2019, il conto si è chiuso con un valore della produzione di oltre 29 milioni di euro e un utile di quasi 1 milione e 965 mila euro, destinato per il 20 per cento a riserva legale, mentre il resto sarà restituito alla regione. Arti si conferma una rete di centri per l'impiego che ha dimostrato negli anni di saper soddisfare l'incrocio della domanda e offerta con una risposta di soddisfazione che va a circa sul 98 per cento, raccogliendo le richieste di circa 18.200 imprese, un volume di circa 60 milioni. Abbiamo fatto una grande riflessione su arti, perché la rete dei centri dell'impiego che conta circa 500 dipendenti più altre 250 che fanno capo alla rete degli Ampal e quindi navigator utilizzati anche in questo periodo per l'inserimento lavorativo, è una grande rete che dovrà nei prossimi mesi, e questo l'abbiamo detto anche in occasione del bilancio di previsione, fare i conti con una situazione lavorativa ed economica della nostra regione che sta profondamente cambiando purtroppo. E quindi ci sarà la necessità sia di formare, sia di cercare di ricollocare figure che sicuramente ne avranno bisogno. Certo lo slittamento per alcuni lavoratori al 31 dicembre del blocco dei licenziamenti ci aiuta e ci dà il tempo anche di capire e di fotografare in tempo reale come funziona l'andamento delle politiche del lavoro. Quindi un grande ringraziamento alla direttrice e a tutti gli impiegati che durante anche questo periodo si sono impegnati a lavorare e ad ascoltare le persone anche con modalità da remoto, con modalità online, non sempre i colloqui di persone erano possibili e questo sicuramente ha costretto a trovare nuove metodologie anche se difficili. Però per adesso abbiamo retto non sono diminuiti i colloqui e quindi dovremmo di nuovo nei prossimi mesi cercare di migliorarci per arrivare a tutti coloro che hanno difficoltà e che perdono il lavoro. Arti sarà fondamentale in quella fase che la Toscana attraverserà dopo che sarà tolto il blocco di licenziamenti e nelle audizioni, nelle confronti che abbiamo avuto in commissione e ho sentito la dirigente che di questo è consapevole. Sarà importante quindi mandare molte risorse per quanto riguarda il front office perché ci troveremo davanti a un gran numero di domande di disoccupazione e sarà importante cercare il ricollocamento. Quindi diventa importante ricevere questa quantità di persone, provvedere anche a quello che è il reddito di cittadinanza e tutte le pratiche e attivarsi bene e lo stanno già facendo per una modalità di contatto che sia sia telematica che dal vivo. Sarà fondamentale quella dal vivo perché il supporto che si dovrà dare a queste persone sarà anche di vicinanza emotiva e in questo devo dire che i professionisti del settore sono stati molto bravi in questi anni e noi dobbiamo dargli però una mano economicamente e organizzativamente. Approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana un atto di indirizzo sulle misure di sostegno delle aree interne della Toscana a seguito della crisi sociale ed economica causata dalla pandemia da Covid-19. Le priorità contenute nella proposta di risoluzione verso cui la Regione dovrà indirizzare i propri interventi a sostegno delle aree interne sono di superare il nodo del digital divide, assicurare la manutenzione delle reti stradali, tutelare e valorizzare il patrimonio forestale e rurale, adeguare l'offerta di destagionalizzazione turistica, dare sostegno all'imprenditoria locale, mettere in campo misure per assicurare una dotazione minima di servizi. La Commissione aree interne è stata una scommessa che abbiamo fatto all'inizio di questa legislatura e io come Presidente ho voluto subito sottoporre alla valutazione della Commissione alcuni indirizzi che oggi abbiamo approvato unanimemente. Indirizzi che sono concreti perché poi alla fine noi dobbiamo misurarci su questioni che riguardano questi territori a come dare ad essi che sono così importanti nella Regione Toscana una mano che sia concreta e reale. Alcuni punti che abbiamo posto all'attenzione. Innanzitutto noi nel 2020 abbiamo erogato come Regione due milioni e mezzo circa di fondi ai comuni montani, all'Unione dei Comuni per alcuni progetti. 15 progetti che sono venuti dai territori erano meritevoli di finanziamento ma non c'erano risorse sufficienti. Noi chiediamo alla Giunta che nei prossimi atti di bilancio siano coperte o il finanziamento di questi 15 progetti. Così come rispetto al bando del sistema neve per gli ammodernamenti delle loro infrastrutture ci sono ancora 300 mila euro di richieste da finanziare. Potrei continuare con la questione del piano di sviluppo rurale. I territori montani hanno il problema dell'abbandono. L'agricoltura è l'antidoto ai fenomeni di abbandono non solo in montagna. Noi quindi abbiamo chiesto alla Giunta un'attenzione particolare visto che si sta trattando con l'Europa il prossimo piano di sviluppo rurale sul ricambio generazionale perché se ci sono giovani che vogliono fare dell'agricoltura il loro futuro e la loro professione devono essere in condizione di farlo. Sul tema della forestazione perché la superficie boschiva non è solo un problema è anche una grande risorsa che deve essere mantenuta e ovviamente anche la questione dell'indennità per le aziende agricole nelle aree montane. Abbiamo fatto alcune richieste anche al governo in particolare per l'Amiata e la Val di Cecina che sono le cosiddette aree interne assieme alle zone dell'Appennino che nel 2015 sono rientrati nella progettazione. Queste due aree quindi Amiata e Val di Cecina sono state ammesse ma per mancanza di risorse non sono state finanziate. Noi chiediamo al governo visto che si sta trattando della programmazione europea di finanziarle. Insomma dobbiamo dare dei segnali concreti in regione e a Roma. Noi oggi abbiamo detto alla Giunta e anche al governo e l'abbiamo fatto tutti insieme d'accordo quali che sono le priorità per questo 2021 che è un 2021 di ripartenza. Questa commissione è nata proprio con l'intento di aiutare le aree interne e stiamo lavorando con le audizioni proprio perché ascoltando la voce dei diretti interessati a breve nella prossima commissione avremo i sindaci proprio delle zone della neve. Ascoltando le loro problematiche possiamo in qualche modo poi trovare delle soluzioni adeguate. Sappiamo tutti che le aree interne soffrono da tanto tempo per tante motivazioni. Noi dovremo tener conto dei problemi legati anche all'agricoltura nelle zone montane che è molto più difficoltosa rispetto a quella delle zone pianeggianti e però è un presidio importante per tutto il territorio. Io in particolare cerco di prestare l'attenzione anche alla scuola in quelle zone e anche ai servizi sanitari territoriali perché senza queste due importanti istituzioni la gente se ne va e la montagna si spopola e invece bisogna che la gente rimanga in montagna perché solo vivendola la montagna può servire anche alla città perché io dico che se le zone montane sono popolate da persone che vivono il bosco e vivono tutta la zona ai benefici arrivano fino alle città e quindi è giusto che ci sia questa commissione che per ora ha fatto una proposta votata all'unanimità in consiglio e poi piano piano vedremo quali saranno le soluzioni da prendere. Inoltre ho chiesto anche al presidente Nicolai e lo stanno facendo che gli uffici compilino una specie di elenco di tutte le questioni che riguardano le zone montane che sia di più facile consultazione anche per noi commissari per capire meglio le problematiche e in che modo si può incidere per aiutarli. La montagna ha partorito un topolino in questo caso la montagna è la commissione aree interne che aveva l'opportunità di intervenire a favore delle aree interne in maniera importante invece si limita a fare un appello al governo quando c'è da mettersi le mani in tasca quando ci sarebbe invece da prendere degli impegni diretti da parte della regione toscana si vede che ci si lava le mani in maniera disarmante. La regione toscana ad oggi non ha messo un solo euro a disposizione della montagna, la montagna sta vivendo una crisi drammatica, potrebbe fare degli interventi come sospendere i canoni per le piste da sci quando insistono sul demanio regionale, sarebbe una misura che si potrebbe fare qui in consiglio regionale con un voto, ci è stato detto che non era opportuno non era questo il momento, ci sarà un momento più là in cui sarà più opportuno, ecco si continuano a fare soltanto chiacchiere, regione toscana ad oggi non ha stanziato alcun denaro a favore della montagna toscana che sta vivendo una situazione assolutamente drammatica. Io ho fatto parte della commissione costiera per i cinque anni precedenti e la mia esperienza non è positiva e quella che è stata la commissione costa, è stato semplicemente un gruppo di consiglieri che girava per la costa per evidenziare delle criticità che in regione toscana tutti dovevamo conoscere a mena dito. Io spero che la commissione aree interne non sia una cosa analoga ma al momento non sembra essere cambiata molto. In questo momento banalmente per il fatto che siamo in emergenza covid sta recependo quelli che sono i problemi delle aree interne ma la regione dovrebbe farsene carico anche senza bisogno di questa commissione. Ci dovremmo forse chiedere come mai abbiamo bisogno di commissioni specifiche per queste aree. Perché allora ci riempiamo la bocca di Toscana diffusa quando poi non è così e addirittura abbiamo bisogno di una commissione per scoprirlo. Abbiamo chiesto misure straordinarie per aiutare le imprese, le aziende, i comuni che in montagna hanno visto saltare di per sé una stagione. Abbiamo chiesto delle misure straordinarie. Noi nel nostro piccolo, grazie a me, abbiamo dato una misura simbolica maestri di cima. Quello era simbolico. Ora servono risorse vere per tutti quei ristoranti, per quegli alberghi, per quelle imprese, per quei comuni che vivono la realtà centrale della Toscana ancora più complessa rispetto ad alcune dinamiche e fuori da alcune direttrici e alcune di linee di ristoro nazionale. Quindi la Toscana può fare qualcosa, lo deve fare il governo, lo può fare la regione. Insieme dobbiamo tempestivamente dare una misura importante di ristoro a queste realtà. Grazie. Grazie.